Ciao ragazzi, oggi presentiamo a voi la nuova Sponsei Prandorabolo. Scarpa di base molto simile a quella precedente. L'entrata è molto confortevole, effetto pantofola direi. Hanno cambiato radicalmente la forma della linguetta, rendendola un po' più ergonomica, diciamo, per agevolare la piega del piede. Per il resto la scarpa mantiene la stessa suola, quindi grande trazione, l'ammortizzazione è la stessa, quindi grande cushioning, grande comfort nella compressione della scarpa. Materiali sono sempre molto leggeri, molto confortevoli, effetto pantofola. Dietro c'è sempre la fascia tendina per dare una sigillatura maggiore al piede. Per il resto la scarpa è molto confortevole. È una scarpa che si presta a tutte le superfici e non vi resta che venire a provarla. Ciao!